Dai sequestri di ambulanze alle aggressioni a medici e personale sanitaria, un'escalation di aggressione e violenza in danno del personale che opera in prima linea nel soccorso, quello che in questi ultimi giorni sta riguardando non solo l'area di Napoli, dove l'allarme è sicuramente più forte, ma tutta Italia, che in modo particolare ha richiamato l'attenzione su questo fenomeno anche a Salerno, dopo l'aggressione subita al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, da parte di un'infermiere e due operatori della vigilanza privata. Sempre più diventa fondamentale aumentare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e di questo avviso il deputato DEM Piero De Luca. Questo episodio ha dichiarato conferma l'esigenza di porre rapidamente il rimedio all'inaccettabile sequenza di atti di violenza che colpiscono con sempre maggiore frequenza il personale sanitario e non solo, che opera nelle strutture ospedaliere, che ha annunciato di seguire da vicino nei prossimi giorni la calendarizzazione alla Camera del disegno di legge già approvata al Senato contro le aggressioni commesse nei confronti dei camici bianchi. Sì, purtroppo nelle ultime ore stiamo assistendo a un escalation di episodi di violenza nei pronto soccorso del nostro territorio, nelle ambulanze, nei confronti degli operatori sanitari dei camici bianchi, è bene non sottovalutare questa problematica e rispondere bene che la politica risponda accelerando sulla calendarizzazione alla Camera di un disegno di legge che è già stato approvato al Senato e che prevede pene più severe per coloro i quali commettono gesti e atti di violenza nei confronti dei prestatori degli operatori sanitari, negli ospedali o nelle ambulanze e soprattutto un osservatorio che possa monitorare la situazione complessiva del nostro Paese. Aggiungerei una misura di videosorveglianza rafforzata sulle ambulanze e nei pronto soccorso e poi ragioniamo su come prevedere se addirittura dovessero esserci dei casi di emergenze maggiori anche dei posti di blocco, dei posti di polizia all'interno di alcuni plessi maggiormente esposti. È bene però che la società civile tutta, la politica e le istituzioni reagiscano per porre un'argine a questa escalation di violenza che colpisce poi operatori che prestano un servizio essenziale e delicato per salvare le vite e la salute dei nostri cittadini. Un impegno particolare per l'On. Piero De Luca ha anche l'avvertenza che riguarda i 50 lavoratori della Treofan di Battipaglia che lottano per evitare il licenziamento collettivo e per ottenere risposte sulla reindustrializzazione dello stabilimento. Questa mattina una visita a Battipaglia. Tra poco incontrerò il presidio dei lavoratori della Treofan a Battipaglia dopo un anno di battaglie, di querelle da un punto di vista politico, istituzionale, industriale la situazione ancora non si è sbloccata. Qui a Salerno abbiamo provato col Presidente dell'Asia a dare un segnale importante pochi mesi fa, lavorando per approvare una delibera che consentisse di svincolare i suoli non utilizzati dalla Gindale e poterli rimettere sul mercato per assegnarli eventualmente a nuovi investitori che possano riqualificare e rilanciare lo sviluppo industriale di quello stabilimento e dare quindi speranza di futuro ai lavoratori che ancora sono lì in attesa di una soluzione. Li andrò a trovare, continuerò a sostenere la loro battaglia al mese perché la cassa integrazione possa essere rinnovata e per trovare una soluzione industriale consenta di rilanciare un sito che deve e non può essere assolutamente abbandonato nel nostro territorio perché dà forza lavoro e dà speranza di futuro a tante famiglie.